Salve e benvenuti a tutti. Siamo sempre qui dalla casa di cura Salus di Battipaglia. Vi presentiamo il nostro nuovo ospite di questa puntata della nostra rubrica Salus. E' qui con noi il dottor Zara che fa parte dell'equip di traumatologia e di ortopedia della casa di cura Salus di Battipaglia. Salve a tutti. Il dottor Zara collabora con il dottor Notar Francesco, primario della struttura, con cui abbiamo parlato in precedenza anche di interventi come quello bilaterale all'anca. Interventi non usuali, vengono fatti qui presso la casa di cura Salus. Poi di pochi giorni fa la notizia è che è stato fatto un intervento che è molto raro in Campania, desueto anche in Italia, che è stato quello del trapianto diminisco su un giovane paziente prelevato da cadavere. Dottor Zara ci spiega un po' e ci illustra che cosa è stato fatto. Sì, è proprio così. È un intervento assolutamente singolare nella sua esecuzione, in quanto è un intervento molto raro, sia per la difficoltà chirurgica dell'intervento stesso, ma anche per le piccole indicazioni che noi abbiamo per eseguire la procedura. Infatti il paziente ideale è un paziente giovane, con alte richieste funzionali, che è già stato operato di altre interventi di meniscectomia subtotale, per cui è necessario andare a intervenire per dare delle ottime richieste funzionali sulla stabilità del ginocchio e prevenire l'artrosi che ci potrà essere nel futuro. Quindi, come abbiamo detto, il reparto di ortopedia e traumatologia è sempre molto attento qui alla Casa di Cura Salus per quanto riguarda l'innovazione. Quali sono le tecniche innovative che vengono in Messina in campo qui alla Casa di Cura Salus di Battipaglia? L'intervento chirurgico viene eseguito con tecnica mini-invasiva artroscopica, quindi viene effettuato con dei piccoli taglietti da cui viene eseguito l'intervento e da cui viene alloggiato l'innesto prelevato da cadavere e quindi la tecnica chirurgica in sé è molto innovativa e permette di ancorare la struttura con delle suture all inside e far sì che il menisco prelevato sia alloggiato all'interno del nuovo soggetto. La terapia chirurgica non prevede immunosoppressione perché il pezzo da cadavere viene trattato e reso inerte e quindi è nell'innovazione della tecnica stessa. Ringrazio il dottor Zara che è stato ospite qui da noi per la nostra rubrica. Grazie a lei. Ringrazio tutti voi che ci avete seguiti e vi ricordo sempre se volete potete contattarci presso le nostre pagine Facebook ed Instagram e vi do appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti.